Automotore Tro, la manifestazione turinese dedicata ai motori d'epoca continua a crescere. 700 gli espositori per l'edizione numero 31, ben 70 in più rispetto ad un anno fa e 44.000 i visitatori contro i 36.000 del 2012, un vero e proprio record. Più di 1.000 i veicoli in mostra sui 60.000 metri quadri di esposizione, non senza interessanti novità tematiche. A dieci anni dalla scomparsa Gianni Agnelli è stato ricordato dal registro storico Fiat del Lancia Club con quattro delle auto preferite dall'avvocato, la Fiat 125, la Panda Moretti, la Tema Limousine ed una Marea con motore 2004. Particolare successo è riscosso lo stand dedicato ai 90 anni BMW, 40 i modelli che la Casa Bavarese ha portato a Torino, tra i quali la prima bicilindrica boxer R32 del 1923, e poi esemplari sotto canna quelli con il telaio in lamiera stampata e le sportive stradali come la R5, la R68, la R69S e la R90S. Senza dimenticare la R80GS, prima maxi-enduro della storia esposta insieme ad alcune versioni preparate per le maratone africane. Quattro gioielli del Museo Lamborghini celebravano il primo mezzo secolo del marchio di Sant'Agata Bolognese, la 350 GTV, la Miura P400, la Kunta CLP400 e la fuoristrada LM002. Nello standasi poi spazio ad una rara versione del trattore di L30, vera origine di Ferruccio Lamborghini, nato costruttore di macchine agricole. Anche quest'anno ad affiancare Automoto Retro due manifestazioni collaterali, Automoto Racing e Piemonte Custom. La prima, giunta alla quarta edizione, ha proposto molti modelli da corsa a due quattro ruote che correranno nelle manifestazioni sportive di quest'anno. La seconda edizione di Piemonte Custom ha ospitato numerosi distributori di parti speciali, gruppi bikers e customizer piemontesi. Uno di questi, Giorgio Gero, si è addirittura cimentato nel montaggio di una special dal vivo nello stand della Federazione Italiana Customizer. Tantissime le special presenti, tra le più ammirate una replica realizzata da Bruno Fino e fedele al 90% della Capitana America, guidata da Peter Fonda nel film Easy Rider.